Storia della razza. La prima testimonianza conosciuta di un cane cacciatore di topi è la HAC, i cui resti sono stati recuperati dalla nave Mari Rose, l'ammiraglia di Enrico VIII, che affondò nel 1545, e una volta era a bordo per controllare la popolazione di rati. Il nome della razza deriva dal fatto che i suoi primi antenati furono introdotti negli Stati Uniti da lavoratori migranti britannici, poiché i cani venivano usati per adescare i topi. Tuttavia, per la maggior parte, hanno sviluppato la velocità di caccia ai parassiti. La loro velocità è utilizzata per combattere i parassiti, e per cacciare piccoli selvaggi come scoiattoli e lepri. Dopo il 1890, questo tipo di razza divenne popolare negli Stati Uniti, e fu incrociato con Segugi, levrieri italiani e Manchester Terrier. Molti dei rat terrier erano indistinguibili dai piccoli cani da caccia di razza mista noti come Feistas. I rat terrier erano amati come fedeli compagni di caccia ed efficaci assassini di parassiti nelle fattorie americane nel XX secolo. Di conseguenza, erano uno dei tipi di cani più popolari dagli anni XX agli anni 40. Tuttavia, l'uso diffuso di pesticidi chimici e l'aumento dell'agricoltura commerciale hanno portato a un forte declino della razza dagli anni 50. I sostenitori della razza, hanno mantenuto il pedigree, che ha portato alla nascita del moderno rat terrier. La diversità genetica del rat terrier ha contribuito alla salute generale, all'intelligenza e alla salute della razza. La maggior parte delle razze moderne sono state allevate da diversi cani fondatori e quindi allevate da un pool genetico chiuso. Il rat terrier ha beneficiato di una lunga storia di coltivazione con incroci regolari per apportare tratti benefici e variazioni genetiche. Al giorno d'oggi, il rat terrier sta diventando popolare non solo come animale domestico, ma anche come cane da lavoro in diversi campi. La loro natura affettuosa e calma, così come le loro piccole dimensioni, li hanno resi popolari come cani guida negli ospedali, nel trattamento della depressione, nel campo dell'assistenza all'infanzia, e in altri lavori di assistenza umana. I dipartimenti di polizia hanno iniziato a usarli come cani da contrabbando, poiché il loro livello di intelligenza riduce il tempo di addestramento a tre settimane, molto più breve delle razze di polizia tradizionali. Inoltre, le loro piccole dimensioni consentono loro di perquisire auto, case e celle di prigione senza causare i gravi danni che un grosso pastore tedesco, o un'altra razza di polizia tradizionale può fare durante la ricerca di un veicolo. In momenti diversi, sono state registrate controversie tra i proprietari di Rat Terrier su quale cane ucciderà il maggior numero di ratti in un dato momento. Una razza di cani da caccia allevata in Anglia nel XXI secolo incrociando Fox Terrier a pelo liscio, Manchester Terrier e Vippet. I Rat Terrier sono uno dei più abili cacciatori di topi tra i cani. C'è un caso noto in cui un terrier posto in una stalla, ha schiacciato 2500 ratti in 7 ore. Curiosi, simpatici, giocherelloni, bravi con i bambini, questi cani sono usati anche come compagni. Il Rat Terrier è la 178esima razza AKC. Aspetto? Il peso di un Rat Terrier può variare da 4 a 11 kg e la sua altezza va da 25 a 45 cm al garese. La varietà in miniatura con meno di 33 cm al garese, sta diventando sempre più popolare come cane da compagnia e da compagnia, ma è comunque un cane da caccia. Lo standard specifica le dimensioni di tutti i Rat Terrier di piccole e medie dimensioni progettati per la caccia in tane strette dove si nascondono i roditori. Esiste anche un tipo più grande di Decker o Junt Decker, che spesso supera gli 11 kg. Prende il nome dall'allevatore Milton Decker, che creò un compagno di caccia più grande. Questa razza è riconosciuta dalla National Rat Terrier Association. L'United Kennel Club e l'American Kennel Club non riconoscono il Decker come una razza separata, ma li considerano un tipo intra-razza di Rat Terrier. Inoltre, solo la National Rat Terrier Association riconosce una varietà di giocattoli separata di Rat Terrier che pesa meno di 4,5 kg. Il Rat Terrier è disponibile in una varietà di colori del mantello. Il colore classico è una macchia solida su uno sfondo nero focato, noto come il tricolore nero, sono abbastanza comuni anche i colori cioccolato, rosso, blu, Isabella, limone e albicocca. Possono essere tricolore o bicolore, sempre con un po' di bianco. È accettabile anche la cosiddetta colorazione del tasso, quando, con il colore principale nero o marrone, le macchie rosse sul muso si fondono e raggiungono il livello della fronte, il colore rosso copre completamente le zampe e può passare allo stomaco. Di solito si vedono macchie sulle aree bianche del mantello, o sulla pelle stessa. Brindle, attualmente bandito dai principali standard di razza, è considerato da alcuni il colore tradizionale del Rat Terrier, e c'è un movimento crescente affinché questo colore diventi lo standard. Si ritiene che il colore marmorizzato della razza sia il risultato di recenti incroci con altre razze, ed è rifiutato dalla maggior parte degli allevatori di Rat Terrier a causa di problemi di salute associati a questo gene. Le orecchie sono generalmente erette, ma possono anche essere semi erette o a busta, il che contribuisce a un'espressione intelligente e vigile del muso. La coda è tradizionalmente agganciata a una lunghezza di 5 luglio centimetri, ma il gene bottaile è molto comune nei Rat Terrier e può portare a cuccioli con lunghezze di coda diverse. Oggi alcuni allevatori preferiscono una coda naturale e non tagliata, che è accettata negli standard di razza. Tratti caratteriali distintivi. La sensibilità sociale dei Rat Terrier li rende molto addestrabili, e più facili da vivere per il proprietario medio di animali domestici, ma significa anche che una socializzazione seria fin dalla tenera età è fondamentale. La corretta socializzazione di un cucciolo di Rat Terrier comporta l'esposizione dell'animale a un'ampia varietà di persone e luoghi, specialmente durante i primi tre mesi di vita. Come la maggior parte delle razze attive e intelligenti, i Rat Terrier si sentono più felici quando ricevono molta stimolazione mentale ed esercizio. I Rat Terrier sono solitamente fedeli ai loro proprietari e molto rispettosi se ricevono una formazione adeguata in giovane età, manutenzione e cura. Il Rat Terrier prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Il pelo corto e denso del Rat Terrier richiede pochissima cura per rimanere in buone condizioni. Un'ispezione settimanale con una spazzola morbida o un guanto per cani, manterrà il suo pelo sano e lucente. A seconda dello stile di vita del cane, è probabile che sia sufficiente un bagno una volta al mese. I Rat Terrier perdono stagionalmente e durante questo periodo, uno strumento per la rimozione dei peli, o una spazzola di gomma, aiuterà a rimuovere i capelli sciolti. Le unghie dovrebbero essere tagliate almeno una volta al mese per mantenerle corte e pulite, poiché le unghie troppo lunghe possono essere dolorose per il cane. Controlla le sue orecchie settimanalmente e rimuovi la cera in eccesso, e i detriti, che possono causare infezioni alle orecchie. Quando possibile, i denti dovrebbero essere lavati quotidianamente con un dentifricio formulato per cani. Alcuni Rat Terrier possono fare abbastanza esercizio per le loro esigenze mentre giocano in casa, ma per la maggior parte, le passeggiate quotidiane, una piccola caccia alla pallina da tennis, e altri giochi in un recinto recintato sono i più adatti. Tendono ad andare d'accordo con altri cani della loro taglia o più grandi. La socializzazione precoce è obbligatoria e sono raccomandate le classi per cuccioli. Il Rat Terrier ha un forte istinto da preda, e non dovrebbe rinunciare al guinzaglio, poiché la maggior parte di loro non può resistere alla tentazione di inseguire di fronte a uno strano gatto o scoiattolo. Il Rat Terrier è estremamente intelligente e addestrabile, anche se a volte alcuni possono essere testardi. Possono eccellere in agilità, obbedienza, ralli e altri sporcanini. Sono straordinariamente sensibili e intuitivi, reagendo rapidamente a metodi di insegnamento positivi. La maggior parte di loro è paziente e tollerante nei confronti dei bambini. Sebbene siano una delle razze di Terrier più calme, sono comunque cani ad alta energia che richiedono esercizio, passeggiate quotidiane e molta compagnia. Salute. A causa delle infusioni regolari di linee di sangue non correlate nel corso della storia del Rat Terrier, è generalmente una razza molto resistente e sana. Tuttavia, con la crescente popolarità negli ultimi anni, alcuni problemi stanno diventando più comuni. Il Doggy Health Information Center raccomanda lo screening dei Rat Terrier per l'usazione della rotula, anomalie cardiache, problemi al pancreas, displasia dell'anca e sindrome di Leck-Calvet-Pertes. La vita media di un Rat Terrier di qualità è di 16 al 19 anni. Prezzo e come acquistare correttamente. In America il costo medio di un cucciolo è di 500 dollari. Linea di fondo. Il Rat Terrier è una razza di cane americana che in passato, era un cane da fattoria, e un compagno di caccia. Hanno molto in comune con i piccoli cani da caccia conosciuti come Feistas. Comuni alle fattorie familiari negli anni 20 e 30, sono ora riconosciuti dallo Unitede dall'American Kennell Club, e sono considerati una razza rara. Il Rat Terrier di oggi è un cagnolino intelligente e attivo che viene tenuto sia per il controllo dei parassiti che come animale domestico.